Grazie a tutti. Grazie per questo incontro, per chi è organizzato e per chi è venuto, perché sono 40 anni che faccio questo mestiere. Ed è sempre un grande piacere parlare della vita, con persone che amano la vita come penso sempre di me. Bene, anch'io mi sono innamorato della vita. Più di 40 anni fa ho comprato una casa e aveva un piccolo giardino. Io non ero agricoltore, neanche papà, neanche nonni, nessuno. Allora guardavo quella cosa strana che si chiamava terra. E dopo sei mesi ho deciso di avvicinarmi. E ho preso una zappa. E ho fatto un metro quadro di terra. E ho fatto un metro quadro di terra. E volevo mettere due o quattro fagioli in terra. E ho fatto i canali con la mano. E ho fatto i canali con i canali con i canali con i canali. E quando la terra mi è passata tra le dita. E quando la terra mi è passata tra le dita. E come è stato un fulmine nel cielo. E ho sentito madre terra. Il suo dolore. E il suo bisogno. E il suo bisogno di tutto. E ho cambiato tutto. Mi sono dedicato alla biodinamica. Ho fatto anche carriera. E ero presidente nazionale. E poi c'è stato Cernobil. E con Cernobil l'ho fatto un preparato omeopatico. E dopo Cernobil l'ho fatto la mia prima omeopatica preparazione. Io non ero omeopata solitamente. Assolutamente. Non ero omeopatica. Però è verribile. Ma ho deciso che i funghi erano rimedio. E ho deciso che i musheri erano il right remedy per la radioattività. Non si sapeva ancora che erano degli accumulatori di radioattività. Loro l'ho fatto un preparato. Come potevo. E l'ho spostato sul campo. Il campo era diventato più grande. E l'ho deciso che cambia un'altra volta vita. E l'ho deciso che cambia un'altra volta vita. E mi dedico al disinquinamento. E sono passato un po' di anni. E sono passato un po' di anni. E diciamo in senso di studi io sono principalmente un autodidatta. Perchè i miei studi non c'entrano niente con l'agricoltura. Perchè i miei studi, i miei studi che ho fatto, hanno niente a fare con l'agricoltura. Con la biodinamica ho visto delle cose meravigliose. Che hanno funzionato così bene fino a Chernobyl. Dopo non ha più funzionato. Questo è un grande problema. Perchè c'è poca gente che fa biodinamica da prima di Chernobyl. E non ha il confronto. Vi dico una cosa incredibile. Avevo un campo in collina in fondo. Otto. Otto. Che era molto povero. E allora avevo messo dell'orzo. Bene. Perchè consuma poco. Bene. Quando è stato già verso giugno. E la parte alta che era più ricca. L'orzo era già alto. Come ci spieghe. E la parte alta che era così. Bene. Bene. In fondo, in fondo. L'orzo era alto così. E la spiga era così. E l'ear this big. Forse avete già visto una cosa dicendo. Bene. Ho fatto il preparato coronaritano. Ho spruzzato. Sono tornato dopo una settimana. E tutto il campo era alto uguale. Questo è impossibile. In senso agronomico è impossibile. Questo è impossibile. Agronomicamente parlato. Perché sarà formata la spiga. Quella piccola è diventata grande. Perché il piccolo year è diventato grande. E lo so anch'io che è impossibile. E lo so anch'io che è impossibile. Però l'ho visto io. Quando l'ho visto io. Quindi la terra aveva una capacità di risposta. che con il centro aveva stata completamente annullata. O quasi totalmente. Bene. E potrei dire altre cose. Ma adesso non ho proprio superato. Allora ho cominciato a studiare omopatia. E soppure ho trovato un grande problema. omeopatia animaniana o omeopatia steinianiana. La mia formazione steinianiana. Però non ho praticato assolutamente l'omeopatia steinianiana. Perché è per l'uomo. E l'emopatia è per l'uomo. E l'omeopatia funziona anche per l'animale. Ma quando vado due gradini sotto sul vegetale. Comincio a funzionare più niente. Poco. E quando vado ancora più sotto nel minerale. Tutto un sistema di regine di forze è completamente diverso. E quando voglio andare nel campo elettromagnetico nell'inquinamento. Devo completamente dimenticare Hahnemann e Steiner. Non che avessero toccato. Però quella volta è stata portata l'umanità l'omeopatia per l'uomo. Allora ha cominciato a inventare. Quando ho iniziato a inventare. E... Siccome vivevo di altro potevo permettermi di fare ricerca. ma c'è un primo pensiero. La vita si articola in spazio e tempo. Oggi io sono qui. In questo spazio e in questo tempo. E questo è un piccola piccola parte della mia vita. domani sarò in un altro spazio e in un altro tempo. La mia vita si muove in spazio e tempo. Allora se devo fare un prodotto devo muoverlo in spazio e tempo. Andiamo a fare così. Una qualità di spazio. Molto interessante. Stani parla di questa qualità di spazio. E lo spazio in cui si è formata la materia. Questo gesto. Ma se io devo disinquinare devo mandarla via dopo l'inquinanza. Teoricamente devo fare così. E poi in Haneman non abbiamo il tempo. Abbiamo 100 colpi. Non un numero di tempo ma un numero di gesti. Steiner fa un passo avanti. E dice ad esempio dinamizza così. Questo è un gesto molto interessante. Perché l'acqua l'interno fa questo movimento che è una lemniscata. Parola greca che significa che è greco il po' mediterraneo. Lemmi lemma è made up of two words lemma e scatà lemma significa parola. Lemma significa parola. Ci sono quattro parole per dire parola. There are four Greek words that means word in greco in Greek lemma logos mitos mitos ma rifatti dire così sorry disordered rima rima parola è una parola di Dio dimostrabile intellettualmente col pensiero. Quella è la logica. Pitagora aveva 350 teoremi ne conosciamo uno però però non conosciamo il significato come dire spirituale del teorema di Pitagora o talete o talete fuori della porta ok poi c'è quindi questo è limma l'emmiscata allora l'emma significa un altro tipo di parole e scata è skate sono considerata la scarpa lo skate ma esatto invece skate significa la striscia che lascio quindi l'emmi scata è il segno che lascia la parola creatrice teorema la parola che io so scoprire con la logica invece l'emmiscata io la guardo e sto zitto è qualcosa che posso guardare ma in silenzio se conoscete il movimento del sole in un anno crea un'analemma in un anno il sole forma un'analemma lemma e quindi è una lemmiscata bene allora questa è una lemmiscata quindi io quando faccio questo movimento e ricreio la parola creatrice ora posso farlo in questo modo pure in quest'altro o in quest'altro o in quest'altro e differenza in questo modo in questo modo è creatrice incarna in questo modo escarna un'inquinante un'inquinante lo dinamico in questo modo e quindi escarna lo metto in campo lo spuso in su campo e porta il messaggio di sciogliersi di andare via invece ad esempio posso dinamizzare in questo modo dell'età o un preparato più dinamico e diventa più forte molto più forte e poi c'è la seconda domanda allora Steiner ha dato la prima indicazione del gesto e poi ha detto le sostanze organiche le dinamisi per due minuti e mezzo e quelle milanali per tre minuti e mezzo quindi ha dato uno spazio e un tempo noi usiamo 25 qualità di spazio diverso in Eureka in our institute we choose 25 different qualities of space one another one another one 25 different gestures oppure risontale or risontale sud nord est o sono 25 qualità di spazio e usiamo circa 300 tempi diversi in modo da arrivare a queste due variabili spazio-tempo fare diventare come raggi laser e vado esattamente a cogliere quella funzione quale funzione e qui coge la bottiglia e apriamo un altro camiclo prima della guerra mondiale la prima no la seconda prima della seconda guerra il mondo scientifico era dibattuto tra due teorie riguardo al mondo delle piante c'era la teoria di Mendel tutto dentro l'essere 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 di Lisienko la seconda la teoria era Lisienko un'essere di Lisienko non lo so un'essere e adesso ho trovato due persone che chiamano di Lisienko l'essere è un po' di calotti ok Lisienko diceva le modificazioni della pianta l'azione sulla pianta è data dall'ambiente questo sappiamo tutti se una pianta cresce al sole no ma secco è diversa va bene è stato un grande scontro tutti sapete che ha vinto Mendel e chi perde neanche si non per cui siamo in due sapere di cinque e nella mia opinione per carità hanno ragione tutti e due e tolto tutti e due e both of them are wrong ossia il seme è l'elemento attivo è l'elemento attivo cambiamo linguaggio let's change our way of speaking diciamo young we can call it young understand young attivo active e invece l'ambiente è l'elemento femminile quindi l'elemento in ma la pianta che cresce ha un papà e una mamma come noi come gli animali e anche le piante hanno un papà e una mamma il papà è il principio attivo e la madre è il principio passivo ma passivo in quanto accogliente potremmo dire che il principio paterno è il principio dinamizzante io porto un esempio il marito dice alla moglie stasera vengo a casa con tre amici prepara la cena e la moglie c'è già quindi il marito è l'elemento dinamizzante e la moglie è quella che deve organizzare tutto quindi non è un passivo remissivo ma è un passivo che si tiene la sua mamma creativo bene allora la pianta ha un papà e una mamma il seme e l'ambiente e l'ambiente Mendel e l'isieme insieme nell'armonia dell'insieme avremo la pianta sana produttiva resistente qualità alimentare eccetera eccetera bene allora entriamo nel seme il seme ha DNA la dieta questo lo sa anche i bambini in genere non si sa che la pianta esprime al massimo 30-40% delle possibilità di subire la dieta io posso avere un talento musicale però non ho tempo non ho denaro per andare a recorsi lavoro quanto va bene canto o metto un cd sulla radio ecco e il mio talento non si spiega però io spiego spiego porto l'esempio DNA come un pianoforte 100 tasti 100 tasti questa è l'insalata 30 tasti questo è il calore di Bruxelles il nostro spazio che ha dei tasti uguali la fotosintesi però ha dei tasti specifici il calore di Bruxelles resiste a meno 15 gradi l'insalata resiste fino a meno 2 però l'insalata ce l'ha quel tasto ma non lo suona è come dire un gene silente noi con l'omeopatia andiamo a svegliare quel centro quindi riusciamo a produrre insalate salate spinaci finocchi fennels fino a meno 12 13 14 finocchi attivando una facoltà che già c'è quindi non è manipolazione genetica ma è il risveglio delle facoltà silente oppure risvegliamo la facoltà di resistere all'arido o caldo freddo secco o vento malattie test questo è il lavoro sul sede noi facciamo un trattamento sul sede e risvegliamo il gene che ci interessa and we awake the gene the capability that we are interested in nelle nostre lingue in our tutelums i try in english si si planet o planets che lo viene anche in italiano anche in tedesco allora i nostri i nostri antenati hanno deciso che c'è un collegamento tra la pianta e il mondo di pianeta ma questa è la parte ipogea o di pigea dove abbiamo il mondo del pianeta il mondo dell'esterno questo mondo qua il mondo il mondo il mondo il mondo il mondo l'ultima pronuncia è zoe zoe vuol dire la vita zoe means life ma vita eterna ma che non si consuma ma che si dona continuamente nel mangelo nel mangelo in the gospel il Cristo parla solo di zoe non parla mai di bios quello che ci è stato promesso è stato zoe zoe what was what has been the target permitted to us our task our gift will be zoe not bios bios si traduce esattamente con esistenza can be exactly translated with the word existence nascere e crescere morire to be born to grow to die quindi è periduro è nel spazio elettrico it is something inside a specific space and time invece zoe è fuori da spazio e tempo zoe è questo dono che tutto avvolge come un abbraccio come un cerchio il cerchio di zoe e in greco il cerchio di zoe è zodiacos quindi quando io coltivo guardo bios o guardo a zoe la pianta che nasce la prima cosa è seme nella terra si ingrossa la proteina si distruttura è come noi che diventassimo grosse il doppio in una volta la mattina dopo sicuramente siamo morti e la mattina dopo sicuramente siamo morti allora il seme muore quando deve essere nel terreno e lancia il suo messaggio di vita verso la sua madre e la sua matrice cosmi e quindi il suo messaggio di vita verso la sua madre è una matrice cosmi e questo torna giù amplificato per cui ogni pianta è figlia di determinati pianeti e determinati stelle per contrastare il GMO non basta più collegare la pianta con lo sodio non è enough anymore to connect our plants with the zodiac board e andare nella galassia le 12 costellazioni della via lato ci sono collegate quindi noi continuiamo guardando la via lato ma quando la terra dopo 12 ore ha fatto mezzo giro quello che era in cielo diventato all'altra parte esattamente what was up is on the other side of the earth let's make a small plant qui abbiamo un mondo delle stelle dall'altra parte il mondo delle stelle quando arriva alla superficie della terra cosa fanno si ferma rimbalza queste forze cosa fanno queste forze passano la terra quello lo sappiamo dello studio dei neutrini del sole ma se questa forza ha un carattere diciamo un carattere una qualità dall'altra parte ha sempre la sua qualità ma ma quando passa la terra e fa un'esperienza in più aumentano o diminuiscono la sua qualità do their qualities are more or less after passing through the earth more or less question more di più di più come noi quando facciamo l'esperienza vediamo la fine di questo incontro come va a finire allora queste forze che gli diamo un nome della nostra tradizione si chiama Padre Cielo Padre Nostro di Sennice e questa è Madre Terra questo è il Grande Padre bene questa è il Grande Padre questa è la Grande Madre questo è il Figlio la pianta allora io devo tener conto delle leggi di madre terra le leggi del sene che è più legato a padre cielo perché è figlio del sole sappiamo molto però non sappiamo cosa fare del DNA spassatura sappiamo no? del DNA spassatura chissà perché io produce spassatura sappiamo che nella pianta ci sono due circolazioni enfatiche ma se la pianta è un bambino un figlio il bambino ha il cordone umbilicale e poi c'è una placenta ed è il cordone umbilicale per le due circolazioni come noi ma è rimasto anche in noi però quando io ho una pianta dov'è la placenta? where is the placenta? della pianta? of the plant? dove è il plant? where does the plant takes the life? ci sono due cordone umbilicale there are two umbilical cords I have only a color of solid the first the first che viene da madre terra comes from a mother earth che porta i sali minerali and brings up mineral salts sì e tutte le forze di madre terra but also all mother earth's forces cui sempre per prima cosa si collegano a terra that's why the first thing a seed does is to connect by the root with mother earth poi c'è il secondo il botone umbilical cord che porta le forze di padre cielo but bring the forces of father sky allora del DNA sappiano abbastanza we know enough about the DNA ma ma where have that color not a color not a color I don't know I don't know but do you want to take some sexy but one and the first is it is it vice versa walk and Grazie. Bene, allora abbiamo questi due cordoni omeritali, la cura dell'agricoltore, secondo me, e curare l'armonia di questo incontro, allora avremo la pianta sana, faccio un altro esempio, la corrente che scende incontra quella della madre terra sulla superficie, sulla superficie abbiamo il colore giallo delle stelle, il colore scuro, il blu della terra, e si crea il colore, e questo crea il nuovo colore che è grino. Ok, questo nelle piante, ma nella terra cosa fa? L'incontro armonico crea l'humus, le terre nere dell'Ucraina, che arrivano all'8% o anche più di sostanza ucraina, e si automantiene la fertilità, ed è il granaio di tutta la Russia. Come si forma la terra nere? Se io riesco a trovare il punto di armonia di queste colore, e riesco a farlo nella terra, non nella pianta, avrò lo sviluppo di l'humus, senza portare sostanza organica. Noi in tre mesi abbiamo aumentato di quattro punti le sostanze organiche. ci vogliono, per un punto ci vogliono dici anni di concentrazione organica. Vi farò vedere i risultati. Per cui il nostro metodo, facciamo sì che la terra diventi Ucraina, l'Ucraina un po' politicamente un po'... senza i problemi politici dell'Ucraina. Ho impiegato più di vent'anni per trovare questo dialogo. Bene, allora l'essenziale l'abbiamo detto. Il seme rappresenta il mondo di Padre Cielo, con il suo DNA, con il suo DNA, che noi possiamo suonare come abbiamo fatto. C'è stato interesse per il lavoro che abbiamo fatto sul geniplo genio. C'è interesse per il lavoro che abbiamo fatto su GMO. Per tornare via una pianta in generale. Per tornare via una pianta in generale. come si fa? Viene a studiare il processo della fecondazione. Quando il polline arriva sul fiore, il fiore lo riconosce. E allora entra il polline. si chiama sistema chiave sedatura allora se il polline è amico entra, gira e freconda ma se il polline non è amico o non entra o entra e non gira per cui mero e pero sono cugini ma non si raccontano con l'altro allora vuol dire che nel fiore c'è un processo di riconoscimento del polline allora siccome per me è la prima del chiave planetaria chi è il pianeta che governa questa? bene venus bene achilea nelle foglie una pianta tipica di venere faccio un preparato di achilea faccio il bagno seme l'altro seme prima di seminare quindi quel seme sa che deve stare per dentro i pollini come la mamma dice alla figlia come la mamma dice alla figlia attenta alla sera quando esce per la figlia ecco va bene e allora abbiamo seminato mais GMO insieme a mais bio così raffila, raffila, raffila l'OGM era giallo e il bio era bianco quindi il giallo vuol dire dominante bianco vuol dire degredito bene in teoria deve diventare tutto giallo allora il bianco è diventato giallo al 2% circa mentre invece è rimasto bianco mentre il giallo è diventato bianco quindi pio al più del 60% bastava le file un po' separate e questo diventava ancora la protezione diventava ancora questo lo usiamo in due modi al lato pratico questo prodotto quando si seguono le cucurbitacee che si incrociano da sole adesso possiamo seminarle una vicino all'altra e non si incrociano più perché abbiamo alzato il livello di riconoscimento 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 la bambina è più attenta quando c'è la scena per le ragazze bene oppure lo usiamo nella pentola dove mette la pasta asciutta e se la pasta è GMO non è più GMO non è più GMO perché con la bollitura c'è ancora un cambiamento è una dinamizzazione è come una dinamizzazione questo è il nostro ecco villaggio questo è un attuatore di Zoe questo è un attuatore per Zoe qui c'è un altro che attivano le forze di vita ne abbiamo 5 o 6 tipi diversi bene il metodo il nome è Trinium questo è il discorso del DNA quello che vi ho detto alcuni lavori che abbiamo fatto potete leggere qui ci sono tutti i lavori documentati all'università quello che stiamo molto investendo è questo se si sa c'è una domanda possiamo dire che li abbiamo tirati fuori dal suolo dall'acqua dall'acqua questo è il suolo e la fazzina è acqua questa è acqua sì c'è un problema non da poco che per noi materia e sostanza sono la stessa cosa il problema è che per noi il termine il termine e la sostanza sono più o meno la stessa ma sono già per comprendere il diviso chiaramente per loro di entrare nelle parole due parole diverse due cose diverse anche se sono signore io posso avere la mia anima gemella però io sono io e lei lei allora ci sia una cosa semplificata so che non è così il sale è il plurino di sodio il sale è il plurino di sodio sodio è come a mean il salto questi sono gli atomi prono e sodio roro sodio e queste linee cosa sono? questa è la struttura questa è che cosa è? questa è la struttura questa è che cosa è? l'imbrio tra gli atomi i legami i legami allora queste materie è sale the matter here is salt allora this is this is immaginate di togliere gli atomi just imagine to take away the atoms cosa rimane? what is left? what remains? the divine the divine the force elegante si, questo si chiama sostanza this is called substance first we had the butter with atoms now the substance sostanza la parola latina substance is a waiting word sub-stanzia that sub means formed by sub and stanzia sub da sotto sub means from below stanzia sostiene stanzia means that supports sustains quindi questi legami sono una struttura invisibile e dove entra poi l'atomo e la sostanza diventa materia come si fa a disinquinare? se questa è la materia inquinante se questa fosse la materia salt per esempio noi tagliamo i legami we cut the bonds cloro sodio no probleme idrocarburi idrocarburi idrogeno ossigeno carbone no probleme assolutamente bene quindi questa però è omeopatia alchemica perché alchemico vuol dire il nascosto entrare dentro il nascosto questo lo stiamo facendo in Cina adesso abbiamo 800 enteri in prova per togliere il sale adesso abbiamo 800 enteri in prova per togliere il sale ok altro problema in noi ok letto in inglese ok some results plant protection almost flattened by 15 cm of hail 1900 They have also pictures of metals, zucchini etc. frost Frust damage on potatoes, say they are brown, burned by the frost, and after they recovered. Brackish water maybe can be interesting here. We made 17 months of treatments. We reduced sodium and chlorine by 70% and in the meanwhile the organic matter increased. This, for example, is a water vitalizer we make. We could speak all day about the water. You take the hydrogen, that is the most energetic flammable substance we have. The hydrogen bomb. And you took the oxygen, that is the one who allows all the flames. You put them together. You should get a tremendous explosion. Invece nasce l'acqua che spegne il fuoco. But it is born the water that can erase the fire. Why? Why? Vuol dire che entro un catalizzatore che permette questa trasformazione. Questo catalizzatore viene da Zoe. Ed è molto difficile da trovare. perché si chiama acquario. Perché si chiama acquario. Accuario. Portatore d'acqua. Allora, qui preparate i biodinamici. Si può resti salire fino allo zodiac. Qui dentro c'è una spirale di lame. Inside this we have a copper spiral. Impregnata dalle forze dell'acqua. Impregnata dalle forze dell'acqua. E quando l'acqua passa. Si vitalizza. E si può ridurre il consumo di acqua del 20%. Ed è molto più buono. And it is much more... Bene. Qua si intende. Understand. We work on problematic fauna. And also insects. And plant diseases. E tutti i malattie incurabili con il biologico. Noi abbiamo un principio. Non uccidere. Perché noi abbiamo deciso che quello è piccolo. Quindi io ho delitto di uccidere. Perché noi abbiamo deciso che quello è piccolo. Quindi io ho delitto di uccidere. Sì. Molto territorialistico. Noi arriviamo a separare la forma dalla materia. Quindi prendiamo di più un insetto già morto. Facciamolo, mettiamo in acqua. Si, lui si scioglie. Quindi separiamo la forma dalla materia. Andiamo a comprendere che la forma è una realtà. La mia forma non è questa. Questa è la materia che riempie la mia forma. La mia forma non ha spessore e non ha peso. La mia forma non ha pesante o peso. Ma non è questa bene. Quando un uomo è bene. Sono in forma. E lo dice che io sono in forma. Come dice? In good form, in good shape. In good shape. Ma cosa significa? Qui ci si finte la mia per la metà? Where rif勝aste? Dimensioni unoffro umaine.